La comodità parco a Giovanotti perché nel 2008 il cantante aveva regalato un po' di alberi che sono stati piantati in questa zona. Per identificarlo in maniera più semplice l'abbiamo definito così anche nel comunicato stampa, ma la cosa importante di oggi è che stiamo restituendo al quartiere e alla città un'area giochi importante che era stata incendiata nel 2019, che non era più fruibile da un paio d'anni. Uno degli obiettivi che ci siamo posti era quello di restituire alla città dei beni che non venivano più utilizzati, questo è uno di quelli, ovviamente il parco è stato anche migliorato rispetto alla realtà precedente, è stata inserita un'area giochi, un campo sportivo grazie al lavoro che con l'amministrazione, con l'assessore Pirodi, il servizio verde pubblico e la dita appaltatrice che ha ovviamente la gestione del verde è riuscita a fare in questi mesi. Aggiungo che non è l'unico perché domani ne avremo un altro, un altro quartiere popolare, con l'assessore abbiamo deciso di fare una serie di investimenti, una serie di interventi sul verde proprio nei quartieri popolari perché ci sembrava importante offrire ancora più in questo periodo di pandemia a tutti coloro che vivono in quartieri popolari un'occasione in più, uno spazio in più dove poter passare serenamente le giornate.